Quindi ritorno sulla parte pratica, quindi che cosa dobbiamo fare? Quindi vi ho detto prima, saper fare un contratto, saperlo leggere, saperlo fare, sapere le parti fiscali, sapere la parte d'immagine, vi ho spiegato prima perché ci sono dei club che detengono poi, se non sai leggere bene il contratto te lo tengono per dieci anni e la squadra che te lo riprende il tuo cliente, ovviamente richiedendo il diritto d'immagine è costretto a pagare due volte la società che eventualmente c'è del giocatore o addirittura l'ha lasciato libero, quindi bisogna leggere bene queste due parti, quindi il contratto privatistici, i contratti federali e poi c'è la gestione, il calciatore in questo momento come avete ben capito, certi livelli, adesso vado sul top per poi scendere più giù, in basso, è chiaro i grandissimi calciatori in questo momento oggi come vedete e magari li seguite anche voi, ormai Instagram c'è gente che ha più della popolazione europea, Ronaldo credo che ce l'abbia 500 milioni, di 600 milioni non so neanche più quanti follower ha, solo su Instagram, ormai sono delle nazioni, sono degli stati essi stessi e hanno degli emolumenti grazie solo ai social che sono enormi, è chiaro che questi giocatori normalmente hanno delle società dietro che sono quelle enormi, poi vi racconterò quali sono perché anche là stanno nascendo ormai dei gruppi di procuratori, quindi c'è questi giocatori che guadagnano cifre grazie ai social enormi, è chiaro che devi essere anche capace a gestire quello, ma non è il caso di quando hai un singolo giocatore e tu sei un singolo procuratore. E poi ci sono i giocatori giovani che possono invece prevedere uno sviluppo di quel tipo e quindi magari se uno ha un giovane calciatore che uno capisce che ha delle capacità di comunicazione e ha delle capacità di quel tipo, anche di situazioni di saper gestire i social, può anche aiutare la carriera sportiva, ci sono tanti casi di giocatori che magari non sono così così tecnicamente, che però vengono considerati poi a livello social molto più bravi.